La relazione tra Rondo e MD Brat sembra confermata al 100% Ma, c'è un ma, c'è stata una sorpresa in tutto ciò Infatti sembrerebbe che nell'ultimo video quando parlai dell'incazzatura di Gaia Questa incazzatura potrebbe essere dedita al fatto che c'è stato un tradimento da parte di Rondo Ma partiamo con ordine Rondo e MD Brat sono ufficialmente fidanzati Come verrete adesso poi dal video dove si baciano all'interno della discoteca e vengono paparazzati da un tente Quindi la loro relazione è confermata al 100% Chiaramente Rondo per andare addirittura a esporre una ragazza sulle social facendo un post Con ottima probabilità deve conoscere bene quella ragazza, ci deve frequentare da tempo Ma lui e Gaia ci sono lasciati da pochissimo Quindi viene da pensare questa cosa, vista anche la reazione di quest'ultima sulle sue stories Che si è scagliata contro MD Brat Ma non aggiungo altro, vi lascio i filmati e lascio voi alle conclusioni Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video, in linea, allo studio Grazie a tutti Grazie a tutti